Il Dipartimento di Studi Umanistici è il luogo dell'Università in cui tradizionalmente si studiano le discipline più legate all'umanità in quanto tale, nelle forme culturali che storicamente si sono sviluppate. A Pavia il nostro Dipartimento studia in particolare delle questioni che, al di là della diversità indubbiamente forte tra le discipline, ha però una unità di intenti, quella di fornire un metodo di studio che, nonostante la diversità delle discipline e di curricula, però punti all'acquisizione di un metodo uniforme, univoco, insieme critico e creativo, che permetta a chi studia qua di acquisire delle capacità che non sono semplicemente nozionistiche, ma puntino in particolare alla possibilità di sviluppare una personalità delle idee proprie, una indipendenza di giudizio, la capacità insomma di lavorare in campi che non sono semplicemente quelli legati all'insegnamento tradizionalmente precipuo della Facoltà di Lettere e Filosofia, di cui il Dipartimento in fondo è l'erede, ma anche in molti altri campi, come per esempio i social media, la comunicazione di impresa, persino la politica, il giornalismo, insomma tutte quelle dinamiche che riguardano gli studi umanistici che possono favorire una crescita personale che sappia produrre insieme approccio critico e creatività, spontaneità, innovazione. I tre corsi di laurea triennali ovviamente sono l'erede diretto della Facoltà di Lettere e Filosofia. I corsi di laurea magistrali si occupano di sviluppare le tematiche acquisite durante gli studi della laurea triennale. A Pavia esistono una decina di corsi di laurea magistrale che spaziano lungo tutto l'arco degli studi umanistici. Il Dipartimento di Studi Umanistici si avvale anche di importanti strutture di ricerca come il prestigioso Centro Manoscritti, Officine Creative che è un laboratorio di creazione multimediale, il CRIMTA che è un centro di ricerca sul teatro antico e da questo punto di vista si appoggia anche a strutture bibliotecarie importanti e particolarmente prestigiose tra cui mi piace ricordare la creazione della nuova biblioteca a San Tommaso. Ma studiare a Pavia ha anche altri vantaggi che sono legati proprio alla struttura della città. L'università si avvale della collaborazione con numerosi collegi di merito tra cui i quattro collegi storici del Borromeo, del Ghislieri, del Santa Caterina e del Collegio Nuovo più una decina di altri collegi collegati comunque all'università. Inoltre a Pavia possiamo vantare anche un'importante struttura museale in cui sono presenti cataloghi e repertori che vanno dalla storia dell'università fino alle scienze e in questo senso naturalmente gli studi umanistici hanno collaborato fattivamente alla creazione e alla realizzazione di queste importanti collezioni.